Se avete bisogno di crediti sicuri e che arrivano subito, passate nel link in descrizione e con il codice DEXTER riceverete il 6% di sconto. Sono usciti i difensori e oggi ne troveremo uno! E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter, benvenuti alla guerra dei Toti! 30.000 mi piace, domani ci sarà un altro spacchettamento, domani escono tutti i Toti, quindi 30.000 like, domani nuovo video, quindi spolliciate ma adesso siamo pronti per aprire il primo pacchetto. Sono quasi le 8, ci stanno i pacchetti speciali e ci siamo, primo pacchetto per i difensori! Ragazzi me lo sento oggi super sculiamo, eccolo, eccolo! Buono, buono, Diego Ne Costa, iniziamo subito così, con Diego Costa, 86 e ce lo vendiamo, via, 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 vendi! Però mo' cerchiamo i difensori, raga, non gli attaccanti, quindi devono uscire i difensori, tipo un Marcellone? No, 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 ok, è uscito un difensore ma è una pippa, selezioniamo la rosa pippona, magari faccio penar gioco, no? E' questo, magari è un Toti, dai, viva, chi ha il telefono? È il Toti! È il Toti, è il Toti che chiama? Pronto? Ciao! Ma godo, congo di! È il Toti, eh? Arriviamo, non è? È il Toti, è il Toti, è il telefono? Sta arrivando, dice che sta arrivando, sta partendo adesso Non dice che sta arrivando Sta partendo adesso Oh! Oh, Violetta! No, è Icona! Oddio! Pizzelline! Pizzellone! Pizzellone! Pizzellone mio! Pizzellone, te sei lì! Pizzellone, te sei lì! Pizzellone, te sei lì! Porco zio, porco! Hai visto che l'abbiamo chiamato? Non è Toti! Eh, vabbè, però... Su, Cacina! Tutti nei commenti, su, Cacina! Se è così! Oh, raga, le icone le trovo tutte, sono trovate tutte le icone! Invece l'immobile, non è più if! Te sei lì! Un'altra icona per Dexter! Primo proprietario, ovviamente, adesso vogliamo il Toti, raga! So trovare tutto, però voglio il Toti! Oh! Ovviamente è buono, buono, buono if! Dai! Oddio, non vedo, non vedo! Dimmi te, dimmi te! Dimmi te che è buono! Dimmi te che è buono! No, non è buono! È una pippa! Suarez, te immagini Suarez! Però! Maa, Miranda! Voglio il Toti stavolta, FIFA! Dopo lì, l'Icon e il Toti! Di nuovo Godin! Di nuovo Godin e Godo! Di nuovo Godin e Godo! Doppio! Godin! Doppio! Godimento! E vogliamo pure una doppia icona, però! Il King delle Icon, dammi le nartre, anzi il Toti! Toti, Toti! Oh! If! Non vedo! Ridimmi se è buono! Ridimmi che è un uruguayano! Dimmi che è un uruguayano! No, 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 eh! È una pippa! Soresena! Soresen! Velocemente, apriamo un altro pacchetto! Chiunque trovo non reaction! Ci provo! Attenzione! Non reaction, raga! Può essere chiunque! Ok! Asensio! Comunque va bene anche un Dani Alves, FIFA! Capito? Se siamo capiti, anche un Dani Alves va bene! Cacca! Cacca! Cavani! 87! Ellison! Cavani! Adesso abbiamo l'altro uruguayano IF, raga! C'è pure su Arez, ma vi rendete conto? Boom! Pure l'IF! Così! Toti, ti prego! Santo Toti! Santo Toti! Oh! IF! IF! A ridimmi! A ridimmi! Dimmi Uruguay! Lanzini! Comunque buono! IF 84! Walkout! Lanzini ci piace! Poteva andare meglio! Grande squignizzo in signe! Dai Toti! Dai Toti! Dai Toti! Dai Toti! Oh! Di nuovo un IF! Di nuovo un IF! Stavolta non riguardo di nuovo! Dai! Dai! Ma è qualcosa di sfida sta cosa! Quindi? Infatti, cioè, ma chi è il Cervo? Cervi? E' un cornuto! Oh! Comunque c'è che ho trovato! Che male non fa! Mi ha detto a non ti avvicinare perché con la tua potenza! La potenza! Toti! Ehi! Oh! Stavolta lo guardo! Stavolta lo guardo! Stavolta è francese! È una pippa! Ora mi giro! 3, 2, 1, Toti! Siete dirette? Se piacesse il Toti! Siete dirette a diventare una napoletana! Oh! IF! Dai Suarez! Saubemayang! No! Papu Gomez! Vai da Como il Papu! Basta pacchetti per adesso! Direi che abbiamo abbastanza sculato! Ci vediamo alle 9! E voglio il Toti alle 9! Basta! Dammi il Toti! Il Toti! Il Toti! Il Toti! Il Toti! Il Toti! Così, aspetta! Il Toti! È nero! È Lukaku! È Lukaku! Pisellone! Lukaku! Oh! Oh! Eccolo! Ronaldo! Non è vero! Primo pacchetto! Sono arrivato un po' in ritardo, raga! Primo pacchetto! Dai e Toti! Dai e Toti! Brasile! Firmino! Te prego! Perché non sei Marcello? Perché non sei Marcello? Dai FIFA! Te prego da me e Toti! Di nuovo! Tutti i terzini sinistri brasiliani! Tutti tranne uno sto a trovare! Quello che mi serve! E Toti! Marcello! Bene! Pure lui! Buono Charmene! Buono! Buono! Madri di buono! Prego FIFA! Dammi il Toti! Dammi un Ramos! Toti! Dammi un Toti! Un Toti! Dai e dai e dai e dai e dai! Oh! 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 Porca merda! Rodriguez! E andiamo così! E andiamo così! Un bel dubbio! Triple IF! E' la mattina! C'è uscito un killini 89! Ma non ce ne frega niente! Perché noi vogliamo bonucci!